Come state? Come state? Un saluto a tutti, ben ritrovati, ormai una buona serata. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campagna numerosissimi, mi raccomando, arriviamo presto a 30.000 iscritti. Allora, non ci volevo credere, poi è arrivato il comunicato del Milan, situazione incredibile, me neanche si è fatto male un'altra volta. Doveva rientrare domani, dopo l'ennesimo infortunio, si è fatto male un dito. In una parata, lussazione al quinto dito della mano sinistra, fortunatamente per lui no frattura, quindi stando così le cose andrà a fare l'europeo, però ragazzi è sempre, 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 sempre nei premi. Cioè si fa male più della media di un giocatore di movimento e lui fa il portiere. Sfortuna, sarà fragile, ora questo è un incidente traumatico, ora è possibile che capiti solo a lui. Non lo so, davvero, situazione incredibile, ora starà fermo una settimana per metterla al tutore, poi verrà rivalutato, ripeto, l'europeo non sembra a rischio, però è sempre, 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 sempre infortunato. Si è fatto male più lui di tanti altri giocatori centrocampisti di rottura quest'anno, oltre che l'anno scorso. Da quando è arrivato, ha saltato più di un campionato intero. Non rientrerà a punto, quindi lo rivedremo con la Francia e vedremo cosa sarà di quest'estate. Però, ripeto, situazione incredibile che deve far riflettere. Un giocatore, rispetto all'anno dello scudetto, lo vedo anche proprio cambiato in tutto, in tutto purtroppo. Se resta, è fondamentale che si rimetta sulle frequenze rossonere, che si rimbocchi le maniche, che torni a essere leader, che trovi le motivazioni giuste e che non si faccia più male ogni 2x3. Fortunatamente Milano è dietro Sportiello, che dà garanzie, però, così. Ripeto, stavolta sarà sfortuna, ma è sempre sfortuna? Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella e più tardi magari ci vediamo per altri aggiornamenti e se ce ne saranno. Altrimenti, una buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.